Buonasera a tutti, faccio l'appello alla Canaleve, Campagno, Amoretti, Boffa, Elcara, Gili, Corino, Roberto, Andrea, buong'altro, Andrea, buong'altro. Buonasera a tutti, faccio l'appello a tutti. Parziale iniziale di 5 giochi a 0. La raldica Prospinio si scuote, si avvicina a 6-3, ma perde il decimo gioco alla caccia unica, 7-3 a riposo. Gli spinesi entrano in campo nella ripresa con un piglio diverso, due giochi consecutivi, ma non trovano la continuità. Altro break della Torfit Langeroero Canalese ed è 9-5. Un gioco per parte, 10-6. I canalesi falliscono il pallone della partita, ma lo trovano nel gioco successivo per l'11-7 finale. La canalese in campo con Bruno Campagno, Davide Amoretti, Stefano Boffa, Ieia Elcara. La Prospinio con Paolo Bacchetto, Michele Giampaolo, Lorenzo Bolla, Francesco Rivetti. Hanno diretto l'incontro gli arbitri Salvatore Nasca e Stefano Castellotto. On the road again, going places that I've never been, seeing things that I may never see again, I can't wait to get on the road again. On the road again, like a band of gypsies we go down the highway, we're the best of friends, insisting that the world keep turning our way, and our way. On the road again, just can't wait to get on the road again, the life I love is making music with my friends, and I can't wait to get on the road again. No, 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 però se non ho fatto che si dici, però se non ho fatto da difarsi, metto passo dentro, la cosa l'ho comissata, adesso mi sta battendo. Però non fare, non fare la cosa di dire, di fare il tiro su, non l'ho passo, cioè se faccio di dietro su, non lo faccio di dietro su, se poi ce l'hai da tirar su, non vengono tirare su, perché se no fai due. Devi fare un passo di dietro di qua, giù, bravo. Di qua aspettarlo che viene. No, il problema è che anche quando, se, darei a fondo, sì, per me è che adesso ho scherzo su, si prende lì così. Poi magari ne tirano corto. Io mai c'è questo buco lì enorme in mezzo. Sì, giusto per variare un po' più. Sì, giusto per variare un po' più. Sì, giusto per variare un po' più. Grazie! Grazie! I can't love you, but it's your fight, your fight, fight back Don't take it lying down, you got to bite back The face of liberty is starting to cry She had a... Un gioco subito, la? Un gioco subito, andiamo a tossire Il nostro gioco ci siamo Siamo come 5 minuti qua Sì, uguale, uguale a prima Uguale a prima Uguale a prima Un gioco subito I can't love you, but it's your fight, your fight Get out of your hallway 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 Sì, è stata una partita molto difficile Siamo partiti molto bene Loro un po' sotto tono Poi sono entrati in gara E ci hanno messo veramente in difficoltà Noi siamo stati poco decisivi nei momenti determinanti Un'ottima prestazione da Moretti Siamo andati 5 a 0 Poi loro sono rientrati in partita Giustamente Perché non erano... Non era il loro gioco quello Quindi hanno espresso poi il loro potenziale dopo Ci hanno rimontati È stata una partita Anche se il punteggio È un pochettino Un 17 Un pochettino distante È stata una partita punto a punto Noi abbiamo sbagliato molto Nei momenti decisivi Non siamo in questo momento Competitivi Per degli obiettivi importanti Però è importante vincere Portare a casa la vittoria Perché comunque Per entrare nei tre quest'anno è veramente difficile In questo momento Il più favorito è assolutamente Raviola Che ha una forma eccezionale È il campione d'Italia Allo Scudetto Alla Coppa Italia L'ha dimostrato qua Quindi noi andiamo avanti Cerchiamo di stargli dietro E cerchiamo di essere competitivi Per cercare di entrare prima dei tre E poi vedremo cosa succede In questo momento non abbiamo il gioco per competere Ma ci lavoreremo Siamo partiti male 5-0 Potremmo fare forse il primo gioco Il secondo E quando dai cinque giochi di vantaggio Ai campioni Purtroppo succede quello E poi alla fine magari Sei quasi lì per recuperare Sbagli un pallone Alla fine non c'è altro di più Merito loro C'è anche del due di più Dallo sferisterio Mermet di Alba Ci spostiamo al Francesco Capello di Cuneo Nell'altra partita Della quarta giornata dei play-off Della Serie A Banca d'Alba Moscone In cui riposava la Marchisio Nocciole Gea Cortemiglia di Cristian Gatto L'araldica Castagnole Lanze E spugna lo sferisterio di Cuneo Con una vittoria tutta in rimonta Il primo tempo infatti è nelle mani I bianconossi di Federico Raviola Campioni di taglia in carica Trovano un break in avvio 3 a 1 Con quarto gioco alla caccia unica E allungano fin sul set a 2 Con nono gioco ancora alla caccia unica Prima del set a 3 a riposo Raviola e compagni sembrano avere in mano la partita Con il capitano cunese Sempre profondo in battuta E attento al ricaccio Ma nella ripresa cresce la quadretta ospite Subito due giochi E anche dopo il time out della panchina cunese Arriva il sesto gioco a 0 Sino all'aggancio sul 7 pari Bacchetto e compagni non si fermano Ottavo gioco ai vantaggi Nono gioco ancora a 0 Cuneo prova a squatersi 8 a 9 Ma i castagnolesi salgono a 10 Per chiudere la partita 9 a 11 Cuneo in campo con Federico Raviola Davide De Valle Danilo Mattiauda E Manuel Brignone Araldica Castagnole Lanze con Massimo Bacchetto Enrico Rinaldi Emanuele Prandi Enrico Musto Arbitro Giorgio Gili con giudici di battuta Giulia Viada Questa la classifica giornata dei playoff della Serie A Banca d'Alba Moscone Con la Torfit Langhe Roero Canalese E l'Araldica Castagnole Lanze al comando con 16 punti Acqua San Bernardo Spumanti Bosca Cuneo 14 Araldica Prospinio 13 Marchisio Nocciole Egea Cortemiglia 9 Madame Muzie Muzie Sono contentissimo del risultato più che tutto per la reazione, appunto come hai detto nella prima parte hanno giocato molto meglio loro e siamo stati bravi secondo me mentalmente a rimanere in partita, a strappare il 7-3 che è sembrato un gioco diciamo di circostanze invece è stato molto importante dopo. Dopo siamo entrati negli spogliettori abbiamo detto ci credevamo, volevamo sicuramente riscattare la prima parte un pochettino deludente ma penso dovuta al fatto che Fede aveva spinto molto e penso che siamo stati fortunati perché nella seconda parte loro sono calati e noi siamo stati direi bravi a rimanere nella partita e a crederci fino alla fine. Poi abbiamo avuto la fortuna di strappare il punto, vincere contro il Campione d'Italia è sempre un'emozione, è un campo difficile dove facciamo sempre fatica ancora di più e dopo il passo falso di Spigno ci dà morale anche perché appunto recuperare una partita dal 7-3 non è semplice soprattutto qua quindi sono molto soddisfatto e faccio i complimenti ai miei compagni di squadra. Sì è stata adesso una sconfitta molto amara ma penso che delle partite dei playoff questa sia stata per noi la più utile perché è veramente quella che ci insegna più di tutto che le partite a questi livelli finiscono agli 11 e gli episodi contano tutti dall'inizio alla fine. Abbiamo fatto un bel primo tempo e abbiamo pagato un calo nella seconda parte dove siamo andati da 7-3 a 7-6 nel giro di due minuti facendo un 15, quello è stato poi decisivo alla fine e mi assumo anche le mie responsabilità perché comunque ho mollato di battere e siamo andati molto in difficoltà tutti e quindi questo ci è poi costato alla fine. Poi purtroppo negli ultimi giochi dovevamo essere un po' più incisivi e ci è mancato qualcosina senza nulla a togliere alla prestazione direi molto positiva dei nostri avversari che hanno giocato bene sia nella prima parte che nella seconda. Noi forse abbiamo fatto un primo tempo molto molto positivo però ripeto le partite finiscono agli 11. Mi spiace molto che sia andata così però giochiamo contro una corazzata e ce la siamo lottata fino alla fine. Questo ci deve aiutare a crescere, a migliorare e andiamo avanti nel nostro percorso. Direi che il bilancio dell'andata è comunque positivo, noi abbiamo l'obiettivo di migliorare e adesso da questa partita abbiamo tanti spunti per poterlo fare. Abbiamo un po' di giorni perché osserveremo il turno di riposo, cercheremo di lavorarci su e di crescere e di trovare un po' di continuità in tutto consapevoli che comunque i playoff sono tosti quindi perderemo ancora delle altre partite. Si chiude così anche questa puntata di undicesimo gioco, grazie a tutti voi per averci seguito. Noi ci ritroveremo giovedì 8 agosto alle 20.30 con la diretta della partita di Santo Stefano Belbo tra la Robino Trattori di Gilberto Torino e la Olio Roy Imperiese di Enrico Parussa. Grazie a tutti!